buongiorno buongiorno a tutti sposto un attimino che l'ho messo un po troppo vicino eccoci qua buongiorno e benvenuti non è il mio orario di solito c'è la rosi oggi trovate me invece parliamo del tuo aspetto e della tua fiducia argomento di oggi guardarsi allo specchio e piacersi i capelli vedere dei capelli vecchi capelli opachi capelli che non esaltano la tua bellezza quanto è importante per la tua fiducia quanto tutto questo può cambiare la tua autostima in meglio o in peggio mi presento per tutti quegli amici e quelle amiche che ancora non mi conoscono io sono paolo e 35 anni fa insieme alla mia socia rosi abbiamo fondato parrucchieri revolution nostro obiettivo dare a tutte le donne i migliori capelli di sempre per riuscire cinque fondamenta le cinque fondamenta della revolution consulenza tutte sana che produca un capello sano un capello sano non rovinato da trattamenti chimici precedenti un taglio che va eseguito rigorosamente con le forbici a lama piena e non con sfoltitrici sfilzini attrezzi di bassa leva che massacrano i capelli basta è un colore che faccia sempre 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 un complimento al taglio i tuoi capelli la tua bellezza la tua autostima quanto è importante guardarti allo specchio la mattina e vedere qualcosa di bello di piacevole o tutto al contrario qualcosa che non ti piace di qualsiasi modo li giri tu ti vedi brutta ti vedi spenta non ti piaci proprio e i capelli vanno di pari passo con la tua bellezza non puoi pretendere di essere bella con dei brutti capelli è impossibile il capello è la nostra cornice partendo da questo cosa succede tante persone si stanno rivolgendo si sono rivolte stanno rivolgendo a professionisti per farsi aiutare perché non si piacciono perché non si vedono belle perché non e poi arriva a un certo punto e tac sospendano e tac spariscono e ricadano e quanto i capelli incidano su tutto questo meccanismo quanto vedersi con un capello vecchio può il capello è la cornice del nostro viso puoi scegliere di avere una cornice vecchia tac una cornice vecchia puoi scegliere di avere una cornice standard che è uguale per tutti eccolo qua questa è una cornice standard come puoi scegliere tutto il contrario di avere una cornice studiata su di te che vada veramente a valorizzare la tua bellezza a quel punto tutto cambia quando tu ti vedi bella sei bella sempre sei bella fuori e sei bella dentro per cui non lasciare al caso non affidarti al caso e non lasciare che questi processi possono in qualche modo andare a compromettere tutta te stessa prenota una consulenza 0371898900 e se fai quello che diciamo noi noi ti promettiamo che ti daremo i migliori capelli di sempre in grado di esaltarti e di farti vedere bella tutte le mattine che è più importante di quello che tante di voi pensano in questo momento grazie a tutti ci vediamo con la prossima diretta ciao buona giornata e buon appetito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.